Salve a tutti e benvenuti in questo canale, io sono Hit47 e oggi andremo a vedere un gioco Minecraft, vabbè tutti lo conoscono Iniziamo un'avventura in hardcore Iniziamo, no, Hit47, hardcore, ok Mettiamo un seed a casaccio, molto sensato, e partiamo Sta registrando? Sì, ok, sta registrando, bene, oh, ok Iniziamo a raccogliere legno Volevo dire che, dunque, chi non avesse visto il primo video, comunque vabbè, lo dico lo stesso Siamo in quattro, che gestiamo questo canale E siamo io, Hit47, Bulbo10, Dr. House e Arakiri E appunto inizieremo a fare video di diverse... Cioè, ognuno farà una tipologia di video diversa E perciò, niente Vabbè, io non farò solo video di Minecraft, farò anche video... Farò let's play anche di altri giochi Ehm... comunque Intanto per non rendere, diciamo, l'avventura in hardcore molto noiosa Stavo pensando di fare... come si dice... Ehm... di... di mettere degli obiettivi Perché sennò poi alla fine è diventata troppo noiosa Che, vedete il video, eccetera Io che vado a scavare, magari in miniera Però alla fine è tutto lì Mentre invece, al prossimo video metterò una schermata all'inizio Nella quale farò vedere obiettivi Che, non so, magari l'ultimo sarà... Ammazzare l'ender dragon Ehm... e quindi... Insomma, mi inventerò obiettivi Proprio per non rendere la serie noiosa Questa è... sarà tipo la decima volta che tento di avviare un mondo Perché stavo... stavo pensando di fare una cosa diversa dalle altre Sì, l'hardcore, però... Stavo pensando... di... Avevo scaricato, appunto, lo snapshot L'ultimo snapshot che è stato rilasciato Nella quale c'erano tutti gli aggiornamenti Di... come si dice... Ehm... hanno aggiunto nuovi suoni Hanno aggiunto una specie di strega E... hanno aggiunto anche... Qualche mob... diverso E... dei pipistrelli che si trovano all'interno delle cave Però ogni volta che l'installavo e cercavo di avviare la registrazione con Minecraft Crashava E perciò... non l'ho fatto E siamo nella... in una versione comune di Minecraft Prima di questo video doveva essercene un altro di video Che era... di un altro... era un gameplay E diciamo che era abbastanza carino perché era di un gioco che sinceramente E... a parere... io non l'avevo mai visto Ehm... è uscito per la 360 Poi l'hanno fatto uscire anche per il PC Si chiama IMA Live Magari molti di voi lo conoscono Ehm... e quindi Però purtroppo L'ho fatto, sì Però quando lo stavo caricando YouTube me l'ha bloccato E mi ha detto che Che... c'erano diritti d'autore, eccetera Di terze parti Non l'ho ben capito Perciò... ho dovuto cancellarlo Stavo pensando anche di fare gameplay del tipo... Stalker Shadow of Chernobyl E... e altre cose Poi magari in futuro si può anche fare Ok, abbiamo la carne Prendiamoci la Warbench Siamo qui Cazzo Lo diciamo bene Bene Scusate per la voce Che sono un po' Raffreddato E... Diciamo... Che cazzo mi ha colpito? Ci sono i fantasmi su Minecraft Adesso questo video lo intitolerò Ci sono i fantasmi su Minecraft Anche se poi... Cosa c'è lì? Oop Parcours sugli alberi Ok, va bene Basta cazzate Meglio che mi sbrighi Perché sta facendo... No, non sta facendo note Però sto crepando di fame Devo trovare... Devo trovare della pietra Bingo Ok No, ho sbagliato Ok Chiriamoci una pala E anche un piccone Non bastano gli stick Ok Bene Giù Ok 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 Se non sbaglio Per la fornace Ne occorrono... 8 Però mi serve anche carbone 6 7 8 9 Ne prendiamo di più 10 11 11 12 12 Ok Qui Carbone e neanche l'ombra Bene Oh Cazzo Ok Ok Saliamo su 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 Veloce Tocca a fare un altro piccone Perché Questa volta però Facciamo in No merda Facciamo in pietra Non morire Mi sto un po' incasinando Ok Allora Piccone Ok Facciamo già questa Sì Abbiamo tre Tre cosciotte Dovremmo farcela A andare Tornare Senza morire Di fame Intanto Guardo un attimo Il cronometro Per evitare che il video Sia troppo lungo Merda Guardando il cronometro Rischiavo di morire Cazzo Ok Siamo a otto minuti Salta 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 Bene Sto Morendo Vabbè Alla fine La mangia cruda Giusto Soltanto Oh Carbone 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 Adesso mi ritrovo Un creeper Di fronte E crepo Saliamo su Merda Ok Dove ero prima Mi sono già perso Wow Fantastico Mi sono già perso Allora Facciamo un po' Di mente locale Allora qua non c'era niente Vabbè che la fin fine avevo solo poca roba Oh figo Eh no Aspetta Non è che avevo poca roba Mi serviva la fornace Vabbè Vi scaviamo qua Veloci Cazzo Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Otto Sopravvivenza estrema No Non davvero Sto scherzando Allora Un'altra warbench Facciamoci Perché mi ho preso a nove Poi non lo so Cocciniamo La carne Credo che la casa La creerò Proprio in quella spiaggia Mi Mi ispira l'idea Già una Una bistecca è già corta Già corta D'accordo Bene Manca solo una Dai Ok Muore Muore anche tu Ok Trasferiamoci Minchia no Già i mob Non posso crederci Vabbè Ci rinchiudiamo qui Ma magari Non vedrete niente Aspettate Un attimo Che Nemmeno io Ok Facciamo Un altro cubetto Più giù D'accordo D'accordo Non abbiamo Nemmeno La disponibilità Di fare il letto Perciò Credo che Tutta questa parte La salterò E la velocizzerò Perché Diciamo che È abbastanza Noioso Forse la taglio direttamente Va bene Direi che come prima puntata Direi che può bastare Mettete un mi piace Se vi è piaciuto E Alla prossima puntata Ciao 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 Ciao